Dunque Achille, è stato un po' fase alterne come tutti gli altri del resto, però quando Mascazzone Latino ci ha messo del suo i risultati si sono visti, un primo e un secondo in una serie di cinque regate e un ottimo piazzamento in classifica generale, per essere la seconda tappa direi ti dovresti ritenere molto soddisfatto. Sicuramente siamo molto contenti e soprattutto anche fortunati, siamo arrivati all'Elba con la speranza di fare ultimi, abbiamo fatto quinti, qua siamo venuti con la speranza di far penulti e abbiamo fatto quarti, quindi credo che sicuramente c'è molto da crescere, il grosso, il 99,9% lo devo al mio equipaggio, in quanto sicuramente è di grande aiuto, anche perché sto imparando a conoscere questa barca e non ci ha ancora capito assolutamente niente, quindi assolutamente ci riteniamo molto soddisfatti. È meglio regattare e essere in acqua quando c'è anche tuo padre dall'altra parte oppure non hai sentito tanto la sua mancanza nel corso di questo weekend? In realtà un po' l'ho sentita, probabilmente se ci fosse stato lui sarebbe stato un po' più complicato. Insomma questo Garda ti ha dato emozioni, questo Pelè, una giornata a mio modo di vedere fantastica quella di oggi? No, meravigliosa, è la prima volta che veniamo qua e insomma spero di tornarci spesso. È un pensiero la Gold Cup che si disputa nelle acque di casa tua, Napoli ci fai un pensiero? No, no, sicuramente ci saremo. Ok. Grazie a tutti